Torna Lectus 2019-2020, progetto tutto terramano. Lectus è un rito collettivo di lettura d'alta voce, insieme. Un mantra laico per riconquistare gli spazi fisici e riscoprire il piacere di essere una comunità in nome della conoscenza. L'edizione di quest'anno si rinnova, aprendosi ad una nuova dimensione. Il teatro non sarà più solo Teramo, ma l'intero Abruzzo. Sarà un viaggio in seno ad una regione dove si fa fatica a rintracciare un'identità comune, una terra segnata da una storia e una geografia che non hanno favorito lo scambio, il confronto e la condivisione tra i suoi abitanti. Noi dobbiamo incentivare la lettura, anche perché il giudizio di pancia adesso sta prendendo, soprattutto sui social, una predominanza che ci preoccupa notevolmente. Lectus attraverserà i confini immateriali delle province abruzzesi per cercare la sintesi tra città e cittadini attraverso la lettura e quindi la conoscenza, come un'arma contro stereotipi e barriere, come fondamento su cui riscoprire la propria identità. Teramo Città della Cultura è un obiettivo che va costruito quotidianamente, con un lavoro costante, cercando appunto di creare e alimentare la rete con le associazioni e tra le istituzioni, per invertire un po', così come abbiamo sempre detto, l'ordine dei fattori rispetto al passato. Noi abbiamo invertito l'ordine e parlato di cultura come capitale, quindi un capitale su cui investire nella nostra città, che è straordinaria nelle sue potenzialità culturali, sia sotto l'aspetto materiale che immateriale. Teramo Città della Cultura, Teramo Città della Lettura. Lectus 2019-2020 si realizza grazie ad un finanziamento del MIBACT, Bando Promozioni alla Lettura, ottenuto su iniziativa del Servizio Beni Culturali della Regione Abruzzo. Direttore artistico dell'iniziativa e regista Renato Pilogallo, curatrice e la giornalista Pina Manente. Una regione piccola, nella quale non si rintraccia un'identità comune, dove si fanno tante cose che non si condividono, ad esempio ci sono istituzioni culturali importanti che non dialogano e non collaborano, c'è tanta nuova roba, ci sono tantissime, c'è una vera vena di nuova, di una genia di giovani che esprimono attraverso i vari linguaggi dell'arte e della cultura tante cose. Vogliamo provare a metterle insieme, come con il nostro spirito, che è quello di far partecipare il popolo e non solo l'elite culturale alle cose che facciamo. Grazie.